Professor Mauro, qual è la situazione per quanto riguarda l'occupazione nella nostra regione? I numeri non sono del tutto incoraggianti. Io direi che i numeri sono anche sorprendenti, ma purtroppo in senso negativo, perché l'occupazione è scesa del 2,7%, che significa più o meno 14 mila unità lavorative rispetto al periodo precedente, cioè il 2018, secondo trimestre, e all'interno di questo dato generale, che colloca ovviamente l'Abruzzo in una posizione di retroguardia rispetto alle altre regioni, c'è il dato del calo del settore industriale e del settore manufatturiero di circa 10 mila unità, che significa che noi abbiamo delle aree in generale, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese, che oggi si trovano in una situazione di sofferenza. Questo per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda, viceversa, l'altro dato che è poi le esportazioni importanti perché ci danno il senso di competitività, ormai è un fatto noto, lo diciamo ogni volta che ci incontriamo, però questo processo di concentrazione cresce di volta in volta, cioè oggi i mezzi di trasporto hanno un'incidenza sul totale esportato del 53%, cioè oltre la metà delle esportazioni abruzzesi sono in mano ai mezzi di trasporto. Alla luce di una situazione, almeno a livello occupazionale, non positiva, qual è il ruolo dei sindacati e cosa chiedete alla regione? Il ruolo del sindacato è chiaramente quello di cercare di garantire occupazione, sviluppo, crescita della nostra regione. Per fare questo c'è necessità impellente di avere confronti sistematici con la politica e con l'aggiunta regionale, che noi abbiamo chiesto da tempo ma che purtroppo al momento attuale è ancora assente in termini organici. Da questo punto di vista ci sono scelte importanti da fare, sia dal punto di vista emergenziale, sia dal punto di vista dello stato di fatto che ha il sistema produttivo, nel senso del mantenere le grandi imprese ma anche cercare di incentivare e rafforzare le piccole, piccolissime imprese, le imprese artigiane che sono in grande sofferenza. Ma anche guardare al futuro, capire quale deve essere il futuro del nostro Abruzzo vuol dire creare un sistema infrastrutturale valido che dia impegno e soluzioni produttive sia alle aree costiere che alle aree interne. Questo in questo momento manca, nel dibattito ci sono idee diverse, c'è bisogno di confrontarsi ma di avere scelte che diano risposte soprattutto alle aree interne che sono quelle più in sofferenza e che in questo momento non hanno ancora risposte dalla politica regionale.